Roma Capitale farà tutto quanto necessario conformandosi alle indicazioni del Ministero e della Regione e prevalentemente in questo momento, data anche l'assenza sostanzialmente di casi autottoni, come c'è stato detto, in Regione, quello che dobbiamo fare è intervenire sulla prevenzione. Procederemo anche alla sanificazione straordinaria dei mezzi pubblici, ACA che stava già preparando delle misure adeguate a questa necessità, quindi in questo momento mi sento rassicurata e mi sento di rassicurare a mia volta. e faremo tutto quanto necessario nel più breve tempo possibile, continuando comunque a sentirci costantemente con la Regione e con il Ministero per eventuali aggiornamenti in merito. Grazie.